Saranno festività all'insegna della cultura quelle che stanno per arrivare in Abruzzo. Nei giorni di Natale e Capodanno, infatti, i più importanti musei statali della regione resteranno aperti per tutta la giornata. Si tratta in particolare del Museo archeologico nazionale di Villa Frigeri, a Chieti, che aprirà dalle 9 alle 20 in entrambe le giornate festive, con possibilità di visite guidate. Il Museo della Civitella, sempre a Chieti, che resterà aperto con le stesse modalità del Museo archeologico. Il Museo Paludi di Celano, che invece resterà aperto sempre nei giorni 25 dicembre, 1 gennaio, dalle 8.30 alle 19.30. Ed è il Museo di Arte Medievale di Castello Piccolomini, sempre a Celano, che aprirà dalle 9 alle 19.00. Apertura straordinaria nei due giorni festivi anche per il Museo archeologico di Campri, dalle ore 9 alle ore 20.